come fare la base viso applica questo di mulac spf 50 io mi trovo molto bene me lo straconsiglio seguitemi su instagram mi chiamo ilaia make up love poi applico questo campioncino che è un prime prime viso perfezionante opatizzante il prime se vabbè fissare il mio cap grazie adesso applico il fondotinta di neve cosmetic questo fondotinta è vegano l'idea neutrale Grazie. Questa è la mia base viso aggiornata. Poi applico il correttore di Yves Rochem, il numero beige 025. Lo vado ad applicare con questo pannello da fondotinta numero 03 di Yves Rochem. Grazie. 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 Grazie.